international conference 20 anni da rio 92 siamo con il dottor tabarelli di nomismo energia e lui chiediamo qual è la situazione energetica in italia e soprattutto ci mancherà energia rimarremo a pile scariche a pile spente ma no insomma anche perché stiamo consumando molto meno siamo in una recessione economica non si è mai vista di questa entità nella nostra storia perciò questo questo effetto positivo che risparmiamo molto perciò non avremo problemi di disponibilità o di blackout come c'è stato nel settembre di nove anni fa tra un anno faremo i dieci anni è stato più grave blackout della storia mondiale dell'elettricità perciò ne abbiamo ecco poi però siamo un paese molto disordinato e abbiamo l'energia elettrica che ci viene fornita in maniera costosa ecco noi abbiamo appena fatto l'annuncio in queste ore dell'aumento tariffario che ci sarà nelle prossime ore deciderà l'autorità dal primo ottobre e andremo a nuovi massimi storici questo è importante per le famiglie ma è importante soprattutto per le nostre aziende per le nostre imprese che fanno manifatturiero perché l'energia serve soprattutto alle fabbriche energia elettrica poi dopo però non dobbiamo dimenticare di tutte le altre forme di energia i trasporti il riscaldamento la legna insomma ci sono tante forme di energia sono interessanti ne abbiamo tante ecco quali altri temi tratterà nel corso della sua presentazione oltre a questo che immagino sia un tema caldo io parto da questa visione internazionale qual è l'energia adesso nel mondo che è caratterizzata forte crescita per fortuna non nostra ma dei circa due tre miliardi di persone che non hanno accesso ancora l'energia come la conosciamo noi che è gente povera che sta soffrendo e quest'anno è l'anno delle dell'energia sostenibile per tutti dichiarato dal dall'onu e parlerò di questo però sempre più fossili sempre più emissioni di co2 se come dicono molti scienziati che hanno parlato qua e mi scuso se uso il se c'è l'effetto serra noi andiamo incontro a veri grossi problemi e per questo che abbiamo poi bisogno di qualcos'altro di grande tecnologia noi abbiamo qua dei grandi rappresentati anche della tecnologia nucleare e dobbiamo riflettere anche sul nucleare grazie buon lavoro grazie a lei grazie a tutti